Totino, io stavolta non ti posso proprio, non so, non so, no, non ti arrabbiare, non ti arrabbiare, zitto che è presto e stanno tutti addormiti, eh? Allora, senti un po', ma se lì sta il tappetino, zitto, 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 Totino, zitto, oh, zitto, ho capito, aspetta un attimo, non te devi lamentare, non devi strillare così, aspetta, aspetta, allora, se il tappetino sta lì, oh, te stai zitto, e tu fai le pisciotte qui, ho dovuto asciugare tutto quanto e pulire tutto quanto, zitto, 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 che se esce tu madre, Voglio vedere che fa, zitto, ovviamente, se sta zitto, sì, ecco, tiè, ecco, perché lui vorrebbe il biscottino, ma io dico, se tu fai le pisciotte là, il tappetino sta là, ma come ti posso dare il biscotto, tu stai zitto, tu devi stare proprio zitto, tu devi stare proprio zitto, zitto, ma guarda che casa, questa non è una casa, questa è un manicomio, non te posso dar il premio, no, ma che premio sarebbe, se non si chiamerebbe premio, scusa, non si chiamerebbe premio, se io, se tu fai le, ma no, giocore, come si fa a chiacchiera con questo, ecco, Eh, vabbè, il premio, ho capito Totino, però il problema sta sempre nello stesso punto, non te posso io da premi adesso, capito Totino, non te posso da premi, il biscottino di Totino, sarebbe il biscottino delle pisciotte, lui ogni volta esce fuori e vuole, fa le pisciotte proprio per ricevere il biscottino, ormai fa 300 pisciotte al giorno, vero Totino, ho capito Totino, ma non è, però tu le devi far centro, se tu non le fai al centro le pisciotte, Ancora, ora ricominciamo, un biscottino ogni pisciotta, ti ho detto, che se qui ci beccano, la mamma mi sa chi la sente, già quella strilla sempre di su, oh, basta, andiamo dentro, andiamo a pulire, andiamo a pulire, dai, dai, ora ti devi far prendere, perché io ti devo pulire, e dopo me hanno detto, dai, vieni qua, ti ho detto, l'ho dato il biscottino di Totino, ma guarda, volete anche voi il biscottino di Totino, tra poco saranno disponibili, Proprio dalla nostra associazione in Italia, quattro zampe Ollus, anche il biscottino di Totino, mi tocca parla piano, perché sono le due e mezza di pomeriggio, stanno tutti quanti a dormire, zitto, Totino, ti è, dai, a pulire, a pulire, un'altra volta, a pulire, a pulire, a pulire, te l'ho dato, vabbè va, io gli do un altro biscottino di Totino, visto che se so proprio di Totino, ecco, la taggancio, ragazzi, questo succede, come sempre, vieni qua, a casa del papi, tre biscotti per una pisciotta, non si può fare, non si può proprio fare. Grazie a tutti.